...la tua estate con una Coca-Cola ghiacciata, puoi iniziare un viaggio al giorno in una destinazione della zona, scopri di più su UoA. Il mondo è la nostra casa, io scelgo Vaitin Chanteclerc, decodettergente e comandata prima di un regione digitale, rispettano l'ambiente e sono efficaci come Chanteclerc. La vita che faccio richiede energia, inizio presto qui e vanno a vedere, tra lettini, obrelloni e lezioni vattutine, ho sempre bisogno di un po' sigla, è gustosa e non ne accontenta, montana, che si fa nel cento per cento, montana, energia togativa. Ehi, do you want to go to the upside down? Casa 3 Summer Edition, le serie TV Netflix, incluse per tre mesi e 50 giga, con il 50% di soldi, con il testo ultimo a 12 luglio. Il mondo è superato? No, però per favore non fai spagnare. Grazie. Dalla ricchezza del grano, la bontà della farina integrale. Per sentire tutto il gusto della natura, ogni volta che è morto un biscotto o un grano, più che buoni, buoni rano, con un cento per cento farina integrale, ricco di fibre. Mielo bianco, un mondo buono. C'è un navigato la città prima che la serata andasse in porto. Lui è Cristoforo, che sbagliando strada, alla fine, ha trovato l'America. Poi c'è Ulisse, che per inseguire una sirena, ha cambiato l'ottana sua vita. E infine Vasco, la città, da solo, è per la prima volta in metropolitana. La città è un mondo da esplorare, in vita, in un bambosport. Avrei, con due ore di anticipo. Arrivano a mani vuoti, cacchino di scopo, con tre marattolini, fare il cocaino. Arrivano per provare e assaggiare spesso di vino. Marattolino sonnita, la nostra estate italiana. Sin dalla sua formazione, le arti di anni fa, la terra è stata colpita da una serie di disastri. 250 milioni di anni fa, le più distruttive e un sui meccaniche che viene dato mai in futuro, quasi cancellarono la vita dalla terra. La più grande estinzione di massa nella storia del pianeta. Ma senza di essa, l'uomo non si sarebbe mai evoluto. Questa è la storia del pianeta di fuoco. Nell'arco di 4 miliardi e mezzo di anni, la vita sulla terra ha affrontato una sequenza ininterrotta di calamità. Non è facile rendersi conto della cronologia degli eventi che hanno trasmatto il pianeta. Per farci un'idea, immaginiamo di riassumere la storia della terra in sole 24. Alle 10 e 40 della sera, 250 milioni di anni fa, tutte le forme di vita giussero a un passo dall'estinzione. La terra era in quella fase della preistoria detta periodo permiano. Un evento catastrofico. di un datane.